cari amici un saluto eccoci qua nonostante tutto buongiorno vedo prevedo e stravedo qui in roma in paralizzata c'è proprio tutto allagato scuole chiuse la cosa pazzesca ma non chiude vedo prevedo e stravedo anche contro ogni condizione climatica perché noi possiamo fare le previsioni anche del meteo esatto infatti il mago ha previsto esattamente il minuto esatto l'orario esatto di quando sarebbe dovuto arrivare per non prendere neanche una goccia la mia non tappi volante ma con lo scooter proprio sono venuto è proprio facile facile ma veramente mago e mica siamo qui a pettinare il bambolo anche noi non ci possiamo pettinare temo a questo però quello sicuramente no anche se ho fatto questo notario un po diciamo è un po sgarzolino no io dopo aver visto oggi penso di candidarmi come sindaco non entriamo non entriamo in discorsi politici ma concentriamoci sui nostri sui nostri pronostici sulle nostre visioni o meglio sulle visioni del posso dare già una visione una previsione è juventus tottenham a l'accomplimento lunedì lunedì così se l'ha sentita o no no è proprio so tutto nel sorpreggio pensiamo roma standard diegi a roma standard diegi però forse no forse questo no non mi ricordo bene non non crei false non vorrei fare due secondi adesso vorrei sapere chi è che chiama sapere scusate adesso qui veramente ecco il cavolo esatto e questo secondo noi non facciamo nomi non facciamo nomi ma vabbè sono le iniziali rs bravo rs che mago incredibile allora veramente rs giuro e allora i pronostici intanto delle partite se lei è andato già oltre a lunedì e concentriamoci sulle partite io direi di partire dal debutto di ringhio gattuso sulla panchina del napoli contro il parma e sarà una bella allora non per meriti di gattuso perché in due giorni non c'è una bacchetta mago però il napoli sicuramente prenderà un po di vigore e quindi batte il parma bene quindi il napoli di gattuso arriva subito al successo un successo che manca se non va durato da ben sette turni nella formazione perfetto perché io sono specializzato anche nel passato sì sette turni perfetto bene ho il conforto del mago vince il napoli e andiamo invece agli altri match molto importanti per la classifica juventus udinese la juventus vince comodamente ecco perché poi insomma di neve non ha proprio diciamo le caratteristiche per andare diciamo non è quel tipo di squadra che sembrerebbe poter dar fastidio sul piano del gioco però sai vince vince la juve vince la juve e che fa invece l'inter a firenze vince 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 perché l'avete sollevato adesso io già sapevo della partita col barcellona quindi non neanche sofferto tanto mi è spiaciuto per i miei figli che non sapevano che ogni gol che annullavano esultavano come dei pazzi infatti abbiamo cambiato casa da poco già ci conoscono in tutto il palazzo bene bene però il discorso è questo quando si alza il livello purtroppo alcuni giocatori comunque insomma adesso l'inter potrà quindi con la fiorentina il livello è basso l'inter vince bene bene quindi vittoria della juve vittoria dell'inter c'è l'atalanta che va in trasferta a bologna questa splendida atalanta questa splendida città anche bergamo è molto bella anche bologna questa splendida atalanta devo dire che non finisce di sorprendere e quindi potrebbe anche andare a vincere a bologna potrebbe potrebbe o va perché lei va a vincere a bologna lo sento proprio va bene bene questa è una sensazione proprio forte il milan invece gioca in casa con il sassuolo il milan ormai è rilanciatissimo e poi il sassuolo poi però il sassuolo è bello carico sì però il milan vince il milan è in crescita tutti vincono questa settimana milan è in crescita e questa rappresentazione del mago la roma invece gioca in casa con la spalla proprio vittoria a mani bassa oddio vedendo la prestazione in europa league c'è qualche timore però insomma no 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 quando il campionato la roma è tosta bene quindi vince vince anche la roma e chiudiamo con la partita che chiude proprio il sedicesimo turno cagliari-lazio una gran bella sfida tra la terza e la quarta bella partita e qui tutti vincono ma la lazio perde ahi questa è una notizia clamorosamente 2 a 1 2 a 1 quindi cagliari veramente cagliari è lanciato è lanciatissimo poi se ci dice questo ma questa l'ha vista oppure la vedrò però no no i punteggi li so già tutti oggi andiamo a sensazione il mago ha molto di pancia di pancia e ce n'è qui di pancia diciamo perché ovviamente mettiamola al servizio dei nostri amici la pancia giusto? bene io direi che abbiamo concluso vuole darci qualche altra chicca non lo so no beh no tanto perché ho ancora 7 minuti prima che ricomincia a piovere ah ma quindi dobbiamo sbregarci dobbiamo sbregarci va bene allora grazie a tutti grazie al grande mago Arthur e prendete nota di quello che ci azzecca e quello no perché insomma poi alla fine gli portiamo il conto al mago sì sì ma quello no è poco quello no è poco io azzecco quasi sempre quasi arrivederci grazie a tutti